Il porto di Genova è uno dei principali scali europei ed è il primo a livello italiano nel settore container. Ogni anno vengono movimentate 51,3 milioni di tonnellate di merce e si contano oltre 6.000 a costi l'anno. Ogni giorno entrano ed escono dai varchi portuali 4.000 camion e 30 treni. La fotografia resa da uno studio, curato dal raggruppamento formato da Nomisma Prometeia Tema, per conto dell'autorità portuale di Genova, dimostra che a livello nazionale il porto di Genova generi effetti diretti, indiretti e indotti per oltre 9,5 miliardi di euro di valore aggiunto e crei 122.200 unità di lavoro. Per quanto riguarda la regione Liguria emerge una produzione di 10,9 miliardi di euro per 4,6 miliardi di euro di valore aggiunto ed un impiego di 54.000 unità di lavoro. Il peso, a livello regionale, della filiera portuale di Genova è del 10,8% del valore aggiunto e del 8,3% dell'occupazione. Stringendo lo sguardo alla sola città metropolitana di Genova, gli effetti complessivi per il territorio raggiungono i 3,2 miliardi di euro di valore aggiunto e le 37.000 unità lavorative. Nel complesso essi sono il 12,6% del valore raggiunto e il 9,7% dell'occupazione.